In uno dei miei rari momenti di lucidità ho avuto un'illuminazione così folgorante che lì per lì mi ha spaventato. La libertà mi fa male, anzi malissimo, come mi piaceva la mia mamma quando mi diceva guai a te, stupendo, e la maestra quando ci pacchettava le mani, stoc, stoc, certe nocche, purtroppo quelle maestre lì non ci sono più e i bambini crescono con le mani belle lisce, ma deficienti, purtroppo anch'io ormai da tempo non è più nessuno che mi dica cosa devo fare, posso fare quello che voglio, sono rovinato, perché è solo nella costrizione che si aguzza l'ingegno, vi spiego meglio, un uomo in catene sa benissimo quello che vuole, vuole togliersi le catene e allora l'ho taringhia si dibatte, tende i suoi nervi, tira fuori tutta la sua energia e splat libero, sono libero, sono libero, sono libero, sono libero, sono libero, sono libero, oddio come sono libero, e pian piano i muscoli della sua faccia si rilassano, si afflosciano, lasciando intravedere i chiari sintomi di una tristezza progressiva e infinita, dopo un po' ingrassante, ma è chiaro, è la lotta per la libertà che fa bene, la libertà fa malissimo a tutti, ma i danni maggiori si riscontrano e risultano più evidenti negli spiriti creativi, negli artisti, nei liberi pensatori. Alt! Qui ci vuole la censura, sì, un bel censore, o addirittura, non mi vergogno di dirlo, un dittatore, qualcuno che ci dica cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare. Sì, ma che? La mia maestra, la mia maestra, valida uno e stoc, stoc sulle dita, basta, sei un negato, non devi più scrivere. Ma come non devo più scrivere? Che libertà è questa? Io vado in America. Bene, e così ci liberiamo di qualche cretino. Siamo talmente preoccupati per il soffruso fatto a un singolo individuo che non ci preoccupiamo affatto per il soffruso che subiscono tutti gli altri individui costretti ad assorbirsi una valanga di cazzate. Se qualcuno mi domandasse se sia meglio una società repressiva dove un genio venga isolato e considerato un imbecille pericoloso o una società libera dove qualsiasi imbecille pericoloso possa diventare un genio? Non avrei dubbi, sceglierei sicuramente la seconda, ma con un po' di preoccupazione. Perché se abbiamo già sperimentato quanto faccia male una dittatura militare? Non sappiamo ancora quanto possa far male la dittatura della stupidità.